un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini del convento ecco dinanzi a questa statua di padre pio per raccontarvi un padre pio differente un padre più molto giovane che nel 1913 pensate un po giovanissimo sacerdote scriveva qual era il suo stato d'animo ai suoi padri spirituali in particolar modo dal volume numero 1 vi raccontiamo che il 26 giugno del 1913 lui scriveva a padre agostino mio carissimo padre ignoro a che possono valere le mie preghiere le preghiere di questa si debole e si peccatrice creatura che per colmo di miseria dimentica ad ogni passo le grazie che da dio ha ricevuto ahimè io sono inutile a tutto il signore prenda compassione di me mi renda capace di adoperarmi da che tanto mi ama anch'io a gloria sua io prego sempre gesù per quelle due sante anime in questi giorni ho pregato anche al nostro signore per le anime che si sono a loro raccomandate dio sa quanto ho poi pregato gesù affinché si manifestasse manifestasse la sua volontà in proposito di quell'angelica creatura il pietoso gesù mi assista e la sua santissima genitrice diriga la mia mano perché possa ritrarre in iscritto fedelmente almeno in parte ciò che mi va suggerendo e ancora padre pio scrive non deve mai tralasciare di salo di satollarsi del cibo degli angeli molte saranno le tentazioni che ne riceverà dal nemico che non ignora il vantaggio che da questo cibo ne riceverà la sua anima e molte altre ancora per lei ma scrive padre pio non si spaventi affatto gesù promette che non lascerà di assisterla la promessa di gesù è immutabile solo allora vi è meno a ciò che promette quando l'anima diviene infedele disprezzi allora le insidie di quegli impuri apostati e con illimitata fiducia si assida all'ombra dello sposo divino e nulla tema all'ombra di un siffolto albero i raggi scottanti di lucifero non vi penetreranno e anche penetrandovi non tema la sua anima di rimanere abbronzata quei raggi che vorrebbero sfiorarla la renderanno a farla camminare sempre con più timore e amore è così dove il demonio vorrebbe farla descapitare le fa guadagnare invece sempre nuovi tesori per il paradiso